Sono 1733 le firme che sindacati a RSU della Riccia Arginore di Sesto Fiorentino con il sindaco Lorenzo Falchi hanno consegnato al presidente della regione toscana Enrico Rossi per chiedere sostegno nella trattativa in stallo da tempo sull'acquisto da parte dell'azienda dell'area industriale su cui sorge lo stabilimento produttivo dopo il precedente fallimento dell'intesa con le banche creditrici. Insieme c'è anche la richiesta di salvare il museo di doccia legato alla fabbrica e che, ha ricordato Rossi, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini si è detto pronto ad acquistare. Di Ginori Rossi parlerà anche con il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Già i lavoratori hanno firmato i contratti, si sono dichiarati disponibili al contratto di solidarietà, anche alla riduzione degli organici. Adesso bisogna che l'azienda, riacquistando lo stabilimento, possa fare gli investimenti. Con il governo il presidente della regione toscana parlerà anche del piano industriale presentato per lo stabilimento di Aferpi a Piombino. Bene per Rossi la previsione del forno elettrico e della produzione di acciaio, ma ancora resta da definire il prolungamento del contratto di solidarietà dal 2019 al 2021 per i lavoratori, insieme a un altro nodo ancora da sciogliere. Ed è la parte relativa all'impegno dei lavoratori, di una parte dei lavoratori 250, almeno per quanto riguarda lo smantellamento del vecchio stabilimento, insomma dei rottami del vecchio stabilimento. Pronti anche per Aferpi, ha detto Rossi, 20 milioni della regione insieme ai 5 destinate alle imprese della filiera, mentre la regione continua a trattare con Bruxelles per altri 30 milioni destinate agli investimenti all'abbattimento dei problemi di carattere ambientale.